eccomi sono le 13 22 per me per voi poi stasera e gianni è sempre qui lady ghost lady sodaco le nastrino risalutano e mannaia prosto lucernario ci devo mettere un tendone nero con il figlio che rientra alle due e io ho tutto il tempo di fare i miei lavori anche se il contrappeso è l'alzarsi il mattino per alzare il guendalino ma tanto ci pensa il maritino e quindi io continuo a fare il nannino come prima ma a parte il mio trap parlato storia del paranormale si intitola lo avete letto stefan chi è stefan che storia è questa storia che arriva da un tempo in cui ancora il web non esisteva ma relativamente moderna non si sa realmente se sia accaduto o se sia semplicemente una creepypasta per chi non sapesse cos'è una creepypasta ho parlato delle creepypasta in un video che si intitola creepypasta in ogni caso la trovo interessante e realistica e in the back way la racconto lo stesso la storia è riportata da una certa jenny champagne o champagne a seconda di come la si legge che una sera d'inverno intorno a fine dicembre primi di gennaio del 1991 decide di andare con due sue amiche a una cena in un ristorante molto conosciuto e quotato sul lago michigan questo ristorante non è solo un ristorante è un ristorante albergo e bar ma nel periodo invernale non ha particolare clientela che utilizzi il luogo come albergo essendo sul lago è più utilizzato in estate l'alta stagione si verifica in estate di conseguenza durante tutto l'inverno la parte alberghiera della struttura rimane chiusa tengono aperta solamente la parte della ristorazione quindi il ristorante e appunto il bar quella sera ci sarebbe dovuta essere una festa in onore della squadra di basket che stava vincendo la stagione aveva vinto la stagione e a questa festa avrebbero partecipato anche i giocatori della squadra di basket quindi jenny e le sue amiche decidono di partecipare a questa festa si incontrano a metà pomeriggio sul tardi tutte insieme e partono alla volta del ristorante sul lago micica arrivano mangiano la festa inizia arrivano i giocatori di basket il tutto procede per il meglio a certo punto jenny ha necessità da andare a far pipì e seppur già sembri paranormale questo essendo una donna non ci va accompagnata dall'amica è più paranormale questo che il resto della storia perché notoriamente a tutte le feste in tutti i locali in ogni uscita pubblica quando una donna va a pisciare e ha una sorta di amica appresso non si sa per quale misterioso motivo dell'esistenza umana ma ce vanno sempre in coppia il perché non l'ho mai scoperto ho vissuto esperienze nelle quali le amiche mi chiedevano mi accompagni di mio forse l'avrò chiesto un paio di volte in 48 anni di vita giusto perché non sapevo dove stava il cesso ma altrimenti oppure la porta era difettosa quindi chiedevo a qualcuno di accompagnarmi per tenermi la porta chiusa ma è successo proprio raramente o amiche che voi umani non potete neanche immaginare che invece lo chiedevano puntualmente ogni volta persino a casa loro mentre stavano discutendo in sala a un certo punto ti stavo dicendo che mi accompagni un attimo incesso così finisco di parlarti e io ma eppure boh treccine di goccioline ok ma a parte le psicopatie delle mie amiche tornando al discorso questo evento paranormale di jenny una donna che vada a pisciare da sola in un locale la porta ad andare alla ricerca dei bagni li trova e sono sul ballatoio di confine tra il bar che si trova proprio dietro al ristorante e la salita ai piani dell'albergo che però al momento è chiuso jenny quindi va al bagno fa tutto quello che deve fare dopodiché uscendo butta un occhio verso quelle scale e con un po di curiosità decide di fare un saltino lì sopra per dare una sbirciatina arriva fino su quindi al primo piano e nota la reception che si trova proprio lì i corridoi della reception e l'avvio verso la scala che va al piani superiori è in semi oscurità è tutto spento le uniche luci che entrano sono quelle fuori dalla finestra e lei scruta nel buio incuriosita rendendosi conto che quella è la reception decide di fare ancora un saltino un po più su e di andare ai piani delle camere sale quindi al secondo piano arriva sul ballatoio e sempre in semi oscurità nota tutte le porte delle stanze aperte c'avevo il gatto che faceva lo scemo nota tutte le porte delle stanze aperte tutti i letti ovviamente disfatti impilati in due file con i materassi arrotolati sopra e ben ricoperti per non prendere polvere nel periodo di chiusura mentre si fa la passeggiatina per tutto questo piano e scruta incuriosita in fondo nota un altro ballatoio in questo ballatoio ci sono uscita dal corridoione c'è questo ballatoio e ci sono quattro scalini che danno su una porta una porta particolare una porta tutta in legno tutta cesellata con disegni e una vera e propria opera d'arte in qualche modo ma nota che da sotto la porta sta uscendo una sorta di luce che sembra quasi una luce elettrica una luce accesa si avvicina sempre più incuriosita pensa che ci sia qualcuno del personale ma essendoci questa luce che filtra da sotto la porta e dai lati della porta è curiosa di guardare meglio più da vicino le cesellature del legno della porta quando si accorge che questi quattro scalini che sono estremamente impolverati probabilmente già da tre quattro mesi inutilizzati presentano delle piccole impronte di piedi ma piccole come se fossero di un bambino mentre sta guardando queste impronte un po stupita la porta si spalanca di botto e sbatte contro il muro ferocemente lei se pia un coccolo inizia a correre via fa tutto il corridoio nell'altro verso riprende la scala scende giù esce fuori dalla reception fa l'altra scala arrivano al bar e si ferma un attimo così al bancone è sbiancata si è presa una paura boia e decide di prendere un bicchiere d'acqua al bar magari mettendoci dentro una bustina di zucchero per riprendersi un attimo chiede quindi il bicchiere d'acqua al barista il barista la guarda e gli fa quasi l'impressione che sapesse cosa aveva sentito e notato allora lei prende questo bicchiere ci mette lo zucchero rovescia lo beve guarda di nuovo il barista è il barista serio gli dice hai conosciuto stefan vero lei lo guarda ancora un po' ansimante non si sente nemmeno nella realtà in quel momento gli dice chi sarebbe stefan dice guarda quando noi io ho cominciato a lavorare dopo in questo locale dopo i fatti ma quando sono arrivato qui c'era stata una giornata in cui ero particolarmente triste depresso ero stato lasciato da mia moglie avevo un sacco di problemi miei e a un certo punto tra lo stress del lavoro lo stress dei clienti lo stress mio di vita personale mi sono accasciato a fine turno in terra mi sono appoggiato un attimo e mi sono proprio messo a piangere era un periodo completamente nero non ne potevo più a un certo punto mentre piangevo mi sono sentito stringere per le spalle come a consolarmi tanto che ho pensato che fosse qualche collega che magari mi aveva beccato lì mentre invece nel momento in cui mi stavo girando per toccargli la mano e dirgli non ti preoccupare che adesso mi passa ho visto che non c'era nessuno rimasi scosso ma sempre in maniera molto razionale pensai che magari essendo così triste così il mio inconscio avesse giocato qualche scherzo e magari mi avesse fatto sentire erroneamente come un abbraccio o un qualcosa che mi desse coraggio finì lì ma iniziai a parlarne con alcuni colleghi era da poco che li conoscevo quindi comunque non volevo farmi prendere per matto di conseguenza chiesi semplicemente se avevano mai notato qualcosa di strano nell'albergo l'espressione che probabilmente ti ho fatto io nel momento in cui ti ho visto così agitata fu sicuramente la stessa che fecero loro a me e anche loro mi dissero la frase che io ho detto a te hai già conosciuto stefan io rimasi interdetto e una volta ripreso un attimo guardai i miei colleghi chi è stefan la collega più anziana quindi che adesso non c'è più è in pensione che lavorava nelle cucine mi raccontò una storia accaduta proprio qui in questo albergo in pratica un tot di anni fa in questo albergo arrivò una coppia un uomo una donna e un bambino sui 6 7 anni presero una camera tutti e tre insieme e la mattina dopo ci accorsero non ci accorgemmo ma si accorsero i miei colleghi che già c'erano che la coppia era fuita senza pagare la stanza e senza niente quando i miei colleghi andarono nella stanza per rassettarla per cercare di trovare anche chi fossero eventualmente per una denuncia o qualcosa per il pagamento del pernottamento videro un bambino ucciso il bambino che era con quella coppia ucciso e abbandonato sul letto della stanza chiamarono la polizia tutto quanto il bambino risultò senza nome e quindi qui in albergo per segno di rispetto per un periodo lasciarono dei fiori lasciarono delle candele nel luogo dove il bambino era stato trovato anche se poi ovviamente il corpo era stato portato via dalla polizia lo chiamarono stefan in modo da capire di chi stavano parlando e la stanza in cui era stato trovato era proprio la stanza con la porta cesellata mi spiegarono anche che in principio questo albergo era molto più piccolo e aveva le porte proprio così cesellate in stile vittoriano poi con l'avvento della modernizzazione le ale erano state ampliate era stato rimodernizzato ma il proprietario del dell'albergo stesso non volle mai toccare la stanza di stefan tanto che hanno costruito il nuovo complesso alberghiero intorno a quella stanza ma la stanza è sempre rimasta quella lì ed è proprio quella lì quella che tu hai trovato al secondo piano sarà vera o sarà una creepypasta non lo so sul web si trova pochissimo di riferimento si può cercare le feste di fine annate tutto comunque in americano di fine annate delle stagioni di basket della squadra del michigan ci sono state delle feste di vittoria ci sono state in vari anni è il 1991 quindi comunque sono passati 34 anni da allora e nozioni ce ne sono poche un albergo che c'è anche ristorante e bar lì sul lago michigan c'è anzi ce ne sono 5 6 quindi anche lì scoprire quale sia risulta abbastanza complicato ora fossimo lì magari si potrebbe fare anche qualche sopralluogo e tentare di cercare la fantomatica porta cesellata a quanto pare dopo questa esperienza di questa ragazza raccontata sul web peraltro poi anni dopo non si trova null'altro per questo dico che è difficile capire e constatare se possa essere una creepypasta o se in realtà c'è un senso di verità e tutto sarebbe se c'è qualche amico che è disponibile abita in america ad andare a indagare sul lago michigan scopriremo se esiste questo albergo con questa fantomatica porta cesellata e quattro gradini che portano ad essa l'ho raccontata però perché a prescindere che possa essere una creepypasta o che possa essere invece una realtà dei fatti è un modus operanti operandi mi sento un po annibal lecter quando non riesce a parlare che uno spirito mnemonico quindi uno spirito che ha perso la memoria a seguito di un trauma di uno shock e del trauma della morte potrebbe benissimo corrispondere alla realtà il fatto che a me se non concesso ora parlo come se questa storia la prendessi per reale in tutto e per tutto il fatto che il bambino abbia fatto sbattere la porta non era certo per spaventare jenny molto probabilmente o non è in grado di calibrare le sue energie è il stesso discorso che dicevo ad altri quando vedono magari sbattere uno sportello o volare una penna o cose così non è che è lo spirito che è incazzato come si fa a vedere nei film il poltergeist che vuole far casino perché vuole essere maligno vuole essere rompiscato ma semplicemente perché probabilmente non sa calibrare le sue energie e quindi tenta magari di fare una cosa come aprire una porta ma magari nel tentativo di utilizzare l'energia per aprirla ne usa troppo e sbatte poi è ovvio che una persona che non è abituata al mondo del paranormale vede una scena di questo genere e si vede sbattere avanti e indietro un oggetto una cosa, una porta, si caca in mano quello è umanamente comprensibile questa era comunque la storia del paranormale che ho intitolato con il nome del bambino Stefan detto questo, Lady Ghost, Lady Sadako, Lady Nastrino risalutano io pure il Gianni anche ora l'ho da schiacciare, non lo sopporto più è tre giorni che ho sto Gianni e che altro dirvi? che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove mi trovate e un po' più sotto tre o quattro delle invece mille mille librerie che tengono in venite i miei libri che ad oggi sono sempre otto ma il no non lo sto stendendo prima o poi uscirà tra l'allero l'ero la nel frattempo ciao